tornatele durruti te lo faccio dire da mia figlia che ha molto spinto perché ciò avvenisse ti sei vestita come Giovanni Davoli papà di Netto Davoli in Carmelo Bene in Salome di Carmelo Bene dove fa il il Battista Giovanni Battista la mia figlia Carla vestita come mio padre il marchese fu il viobato torna con te le durruti non lo fate vedere la mia computer che sembra che ci danni i soldi non ce li danni dice mi sono mi ho vestita come il il Battista Giovanni Davoli il padre di Netto Davoli in Salome di Carmelo bene io non me lo ricordo tu non ti preoccupare dice mio padre dillo con palore il tuo mio padre apri le durruti di nuovo punto mi ho messo alla maglia di qualche cosa che dice lui Giovanni Davoli il Salome di Carmelo Bene il Salome di Carmelo Bene quando dice Carmelo Bene che se ci fosse adesso Carmelo Bene colpi di minchia in testa a tutti questi imbecilli banali che abbiamo intorno ricominciamo il marchese fu il viobato di nuovo dopo tante preghiere io ho vestita come Giovanni Davoli nei panni del Battista nei panni del Battista in Salome di Carmelo Bene io che sono la marchettina abate abate Carlo abate Carlo abate Carlo abate Carlo abate Carlo come dicono ignoranti nuovo studio questa è l'ultima volta che vedono questo studio qui dicono ci sta un nuovo studio e quindi può salvare questa la saluta al finale fatti vedere tu pure da dietro come sei vestita hai visto posso andare vestiti benissimo tornate le durruti questa è non sappiamo quando ma molto presto farito anzi in qualche modo è già tornate dove l'ha messo il tappetino tele durruti una televisione monolocale fu il viobato il marchese fu il viobato alla fine torniamo ciao